Si chiama Nembo il cane pastore tedesco degli agenti di polizia di Caltanissetta che ha permesso di sequestrare della droga in un istituto scolastico superiore della città. Su disposizione del questore Filippo Nicastro di comune accordo con le autorità scolastiche proseguono i controlli nelle scuole da parte delle forze dell'ordine che con l'ausilio di un'unità cinofila hanno ispezionato il liceo tecnologico Sebastiano Mottura e l'ITAS Luigi Russo. All'interno dell'istituto Mottura, nascosti sotto alcuni banchi, il cane appartenente alla polizia ha fiutato e consentito agli agenti di trovare due contenitori porta sigarette rigidi in metallo, un involucro in cellofan e una serie di involucri di carta stagnola che contenevano sostanze stupefacenti per un totale di quasi 23 grammi tra marijuana e hashish. Il tutto ovviamente è stato sequestrato. Non è stato trovato nulla invece all'interno della scuola Luigi Russo. Sono ancora in corso le indagini tese all'individuazione dei possessori delle sostanze sequestrate. I controlli verranno ripetuti ciclicamente e riguarderanno, oltre le scuole, altri luoghi di aggregazione giovanile della città.